Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Se forti temporali entreranno in Italia a partire da domani, sabato 25 maggio 2024. Questi temporali saranno attivi e forti nel periodo serale, e la pioggia cadrà a tratti intermittenti e continui, con il rischio che si formino improvvisamente forti grandinate in alcune zone. Quindi stare sempre attenti perché i temporali sono noti per la loro pericolosità. Anche la pioggia sarà più intensa nel corso della serata, soprattutto sul centro Italia, e sarà accompagnata da grandine e forti tuoni. Ma le piogge cadranno in periodi intermittenti di stabilità, con il rischio di piene improvvise, soprattutto sulle coste dell'Adriatico, e quindi è necessaria molta cautela. Le zone interessate da piogge e temporali domani, sabato, sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia settentrionale e Sardegna. E qualunque altra notizia importante, cercheremo di comunicarvi in seguito.